Bella raga, siamo adesso alla quarta parte del gioco Hitman Ricordate nel precedente video quando vi ho detto che dovevo cambiare travestimento Mi ero travestito proprio da Cuoco Però ho scoperto che il Cuoco ha accesso a pochissime aree Ma poi mi sono riravestito da tipo della sicurezza Tutto ciò che rappresentiamo è troppo pericoloso per restare in vita Lo so, non preoccuparti Non preoccuparti, so già la scelta Comunque vi stavo dicendo, a me non è sicuro da tipo della sicurezza e la mia notorietà è scesa Cioè perché ricordate nel precedente video quando stavo facendo quella sparatoia Sono diventato ricercato Dopo un po' la mia notorietà è scaduta Ok ragazzi, l'abbiamo individuata Adesso dobbiamo fare la scelta Ma che scelta bisogna eliminarla subito Eccola là Ok, mi dispiace mia cara Ma lo faccio per l'agenzia E i traditori vengono sempre puniti E tu verrai punita in un modo molto 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 Doloroso XDDDD Annientato Ho annientato il nemico Ma adesso cosa accadrà? Mi dispiace per quello che ho fatto Mi dispiace Ma il gioco finisce qui Lo so che stai facendo Ah no 47 47 Eh no, io non rispondo Perché sono Sai ucciderti? Perché l'hai fatto? 47 Certo che non va Certo che non va Ti prego Ti prego Ti prego Non c'è più Hai ancora una possibilità? Nella mia stanza Una lettera Ora vai Venti la ragazza E scatta Ma perché solo alla fine dipendi? Ecco Ragazzi Mo so fregato Eh Correndo farai E per i nemici Sarà più semplice Che genia Lo sapevo benissimo Ma a me piace correre Secondo te allora Come vado da sta villa? Sentiamo Cammino come un nobile Che devo fa? Sentiamo Dove cavolo È all'uscita L'agente 47 Può liberarsi dai nemici Con rapidità e precisione Ma ricorda Quando sei concentrato sui bersagli Consumi istinto più velocemente Mamma mia però Allora Muoviti continuamente Fino a margine di copertura Tieni premuto Vabbè Così Sposta la visuale Per concentrarti Quindi agganciami bersagli Bersaglio agganciato Mira la testa O premi più volte il grilletto breve Assicurati di infliggere danni fatali Aspettate Danni fatali Concentrati sul prossimo Scusate ragazzi Lo attivo due volte Assicurati di infliggere danni fatali Alla carica Che figata Ricarichiamo Corriamo 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 Per me Per me Naturalmente Tu sai chi sono Lo so Lei è morta Ma come Ma come l'hai capito Andiamo Stavi vicino Fuori da Qualsì Fuori dalla villa E lontano Dai tizi che potrebbero Forse indagare Stavo dicendo Edizie che potrebbero Indagare Sulla 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 Come si Oddio Come si dice Vabbè Sul Eliminazione Delle guardie E ora Stai bruciando Quell'auto No dai 47 E' bellissima Ma che brutta E' quando E' ricoverata Dai dottori E' tutto Confuso Come in un Brutto Sono Quella E adesso Dove mi porti Sentiamo Ti pareva Lo sapevo Che c'è Ah no Ci sono Gli indagatori Ma stanno Cercando Il solito 47 Comunque Non preoccuparti 47 Sa benissimo Gestire La situazione Bella raga Il video Finisce qua Ciao a tutti